Io il pomeriggio lo faccio sempre qui, io ho tanti amici qui. Sono i CAS, i centri di aggregazione sociale, l'ultima frontiera di una socialità e di un servizio al prossimo che anche in queste giornate di caldo record sopperisce alle mancanze di un welfare sempre più carente. La caldura si combatte spendendo dei soldi principalmente, però noi con l'aiuto di tutti si riesce a sopperire a tutto e si sopperisce a quello che delle volte le autorità non fanno. Ne abbiamo visitati due in città Tortaia e Pescaiola entrambi con oltre 500 soci ciascuno. Il nostro giro inizia alle 16 in piena calura estiva. Con l'aria condizionata che abbiamo insomma, si è acceso un po' prima dell'apertura in modo che così... E in più là all'ombra quando tira un po' di vento la gente va là a giocare a carte. Si senta come si sta bene, che ora fra poco si mette un tavolino e si gioca a carte tutta la fine, fino ai 7 e via così. Si combatte il caldo ma soprattutto si sta in compagnia e c'è chi pensa anche ad un amico in difficoltà. Noi abbiamo un paio di soci, in particolarmente uno, particolarmente in questo momento, che ha avuto un intervento a ginocchio, perché è facile. L'abbiamo chiamato tre volte per sostenerlo, per sentire se aveva bisogno di noi, insomma, se potevamo fare qualcosa per lui. E anche questa telefonata fa bene a non sentirsi solo. Oggi più che mai, dunque, questi luoghi diventano davvero una seconda famiglia, piccole, anzi grandi, come ci fanno notare, comunità dove l'altro è importante. Come no, è importantissimo, almeno si passa il tempo. Tranquillo. Basta, nel senso, si sta bene, in compagnia. Questa è una piccola comunità, praticamente. No, è grande comunità, perché siamo in tanti. È una grande comunità, siamo oltre 500 e adesso giochiamo. No, è grande comunità.